Un posto al sole, trama puntate, martedì 28 settembre 2021. In dubbio se Maglio le abbia mentito meno, Nico continua imperterrito a indagare sulla nuova pista fornita dall'uomo. L'avvocato riuscirà a trovare l'aggressore di Susanna? Nel frattempo Franco continua con le sue ricerche e si ritrova inaspettatamente dinanzi ad alcune scoperte molto interessanti. Riuscirà ad acciuffare il vero aggressore della povera Picardi? La ragazza nel frattempo è ancora in ospedale. Le sue condizioni sono stazionarie, ma nonostante questo quando si risveglierà? Serena devastata dal dolore per via della distanza incolmabile che si è venuta a creare tra lei e il marito Filippo, chiede conforto ad una persona fidata, la quale le sta garantendo grande aiuto. Di chi si tratterà? Ti marina forse? Guido intanto è sempre più geloso di Alberto. Il di chi si tratterà? Ti marina forse? Guido intanto è sempre più geloso di